Domenica 5 novembre 2017. Mancano 56 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno dello scorpione. La chiesa ricorda San Galeazzo. L'onomastico. Oggi si festeggiano gli onomastici di Galeazzo e di Lisa. Accadde oggi. Il 5 novembre del 1966 la piena dell'Arno raggiunge Firenze, passando alla storia come l'alluvione di Firenze, uno dei più gravi eventi alluvionali accaduti in Italia, che causò 34 vittime ingenti danni al patrimonio storico-artistico del capoluogo toscano. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri al rocker e cantautore canadese Brian Adams, nato a Kingston il 5 novembre 1959. La citazione del giorno. Nessuno è più schiavo di colui che si considera libero senza esserlo. Johan Wolfgang Goethe. Dice il saggio. La prima volta che mi inganni la colpa è tua. Ma la seconda volta. La colpa è mia. Proverbio arabo. La parola preziosa. La parola di oggi è zuavo. Gli zuavi erano un corpo militare francese in Algeria nel XIX secolo, formato sia da francesi che da indigeni. Il termine si è poi esteso a qualunque corpo di milizia fosse composto sia da soldati stranieri che appartenenti allo Stato che rappresentavano. I pantaloni alla zuava sono gli indumenti caratteristici di questo corpo militare, corti, larghi e fermati sopra al ginocchio. Grazie. Grazie.